amici del canale oggi sono tornato a te voli la nostra vecchia conoscenza ciao a tutti per luigi d'imperi ok per luigi allora noi ci siamo già conosciuti nel 2015 da allora ad oggi cos'è cambiato sono cambiate molte cose grazie ai miei costumi sono riuscito a partecipare alle ultime riprese del video di emi schilla il cult con il mio vestito di red ranger matrimorph e in più sono entrato a far parte del gruppo power range cosplay italia infatti per questo oggi sono venuto allora ho saputo che questo gruppo è un progetto molto grande ed ambizioso ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è che non fate parte tutti della stessa città sbagli oppure no no non sbagli infatti siamo di tutta italia da roma napoli addirittura da san marino e dalla svizzera un bel progetto bello grande quello che io mi chiedo come fate ad allenarvi a incontrarvi a fare le prove per poi quello che andrete a fare sul palco le prove praticamente sono via skype perché l'unico modo per potersi vedere facciamo riunioni una volta a settimana anche per capire come vanno i progetti futuri ci diamo una mano a vicenda e così via le vere prove effettive sono un'oretta prima appunto dell'esibizione se decidiamo di fare appunto gare o cose del genere infatti da quello che so già avete fatto siete andati una volta sul palco esattamente abbiamo partecipato a questa prima fiera che si chiama modena nerd abbiamo provato a fare la gara come gruppo l'abbiamo buttata sul comico e siamo riusciti a vincere il premio come miglior gruppo perciò direi che è andata perfettamente è andata proprio alla grande sì ok allora un contatto per i nostri amici a casa che vorrebbero rimanere in contatto con voi per sapere i vostri work in progress come vi evolvete come gruppo o d'altro allora ci trovate sia sulla pagina instagram che sulla pagina facebook come power ranger cosplay italia dove potremmo incontrarvi prossimamente ci potete incontrare il 29 ottobre sulle mura di lucca faremo la nostra piccola sfilata quindi se volete foto basta fermarci tranquillamente noi siamo lì a vostra disposizione perfetto allora ci vediamo a lucca e nelle prossime fiere perfetto grazie grazie a te alla prossima alla prossima ciao ciao ciao